A me basta vedere Booker. No! Sì! Un attimo, quindi non le serve Nia? No, raccoglieremo i suoi dati a distanza. Indosserà un dispositivo mobile. Non ti accorgerai neanche di averlo Nia. Vuoi davvero indossare qualcosa per il tuo primo commento in diretta? No, infatti lo toglierò, farò il mio intervento e alla fine lo metterò di nuovo. Sleavemore non lo saprà mai. Rimetti il casco, per favore. Rimetti il casco, per favore. Rimetti il casco, per favore. No, tranquilli. Levi, che faccio ora? Rimetti il casco, per favore. Rimetti il casco, per favore. Benvenuti all'angolo dei commenti della Carver, con i gemelli Baxter-Carter. Mio fratello non sta bene. E per vostra fortuna sarete solo con me. So che vi starete chiedendo perché indosso questo affare. Sì, come no. Perché il mio tema di oggi è... Skateboarding! Skateboarding? Ho voluto combinare sicurezza e fascino con questo caschetto che si illumina. E si illumina! È incredibile, mi ha rubato il topic! Guarda, agita le braccia in aria come me! Che sta facendo ora? Sembra che non riesca a controllare le braccia. Ma che cos'ha, Nia? Devo aver attivato il mio articolatore. Essendo le loro onde cerebrali connesse attraverso i caschi, succede che Nia imiti il movimento degli arti di Booker. No, no! Devo spegnerlo! Devo spegnerlo! Cosa hai fatto? Seguimi, Raven. Abbiamo delle spiegazioni da dare. E adesso... Torniamo a quella ladra di Topic. Comunque, la sicurezza è una questione molto seria per gli skater. Perché mi fa venire voglia di ballare. E... Annusarmi la scella. E fare la farfalla. Mandiamo la pubblicità. Non abbiamo pubblicità. Taglierei e basta. Wow, Booker, divertente il modo in cui hai manovrato tua sorella. Ehi, sarà sicuramente arrabbiata con te. Non sa che è stata colpa mia. Lei non è... Sensitiva! Tu mi hai fatto annusare la scella! Tu mi hai rubato il tema sugli skater! Perché avevo in testa un casco per colpa della tua disfunzione! Quindi è una disfunzione! Bisogno di attenzione! Disfunzione! Siente affatto! Basta! C'è gente che guarda! Ehi, un attimo. Stiamo registrando attività psichica. Su, litigate! Nessun problema. Sei una ladra di interventi sullo skate, una copiona di camicia e di parole, una mangiaspanacopita e anche... Booker? Oh, si è bloccato un'altra volta! E questo indica una sola cosa. Il loro continua a litigare. Sta generando una viscosità nel campo psicoprismatico di Booker, il che comporta un stato catatonico intravisione. Non ho capito niente, ma salverai il mio bambino? Certo! Quello che devo fare è pulire le visioni, ma per poterle pulire devo rimuoverle. Vabbè, solo temporaneamente, vero? Beh, io lo spero. Ma devo dirtelo, c'è la possibilità che... che le perda per sempre. A casa di Raven! Su Disney Channel! A casa di Raven!